Prendiamo un altro esempio, un'altra tela sempre sul paesaggio, paesaggio come composizione in quanto gli elementi del paesaggio visti uscendo, la terra nera, certi campi che sono poi con la luce radente caricati di colori particolari a seconda dei riflessi che ci sono, i segni che magari si vedono come aratura, gli orizzonti, i colpi di azzurro e le masse magari di ombre che ci sono in certe boscaglie e tronchi, un sole, una luna, questi elementi qui sono trasfigurati, trasportati, trasformati nella composizione, cioè la composizione è quell'elemento che è il quadro dove ci sono molte logiche, cioè le logiche derivano dall'immagine che aveva dentro e che ha vissuto l'artista. Perciò questo è un esempio di questo tipo di espressione. Qui per esempio abbiamo un campo, un altro elemento, un grande campo di riso tagliato, perciò c'è questo oro giallo illuminato e la terra sull'orizzonte diventa quasi dorata, bronzata e c'è poi lo stacco, però chiaramente non si può pensare a un paesaggio fotografico, ma è la sensazione che si è avuto nell'andare nell'esterno, viverla e poi con la tecnica pittorica rappresentarla. Cambiando il registro invece possiamo avere espressioni come questa, per esempio. Questa è la luce nella natura, è un olio su tavola e qui vedete la composizione particolare, perché qui veramente gioca molto non più la tecnica tradizionale, ma gioca la voglia di esprimere, di rappresentare creativamente con la conoscenza la sensazione. Perciò la luce, la natura, la terra, gli elementi vengono tutti usati come sensazione di pretesto per creare la composizione. Il quadro vive a sé poi, cioè il quadro è un'immagine che nasce dall'artista, ogni artista deve per forza, in base all'esperienza che vive, trasfigurarla per dare agli altri una realtà personale.